ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video a grande richiesta giochiamo contro bet versione super saiyan di terzo livello cioè ok betta 22 anni nella saga quindi a 2700 punti di forza devastante tutto quanto quindi giochiamo contro di lei e gioco con il random sfida nessuna alcuna assistita personalizzata ok aveva pure il nero di for is currently my favorite open ok niente però non gli facciamo fare il gambetto di donna se no troppo forte giochiamo la nostra fedele est indiana ok tra l'altro un attimo chiudo whatsapp se no ok tra l'altro i computer di scacchi perché ok non dimentichiamoci che è purtroppo è un solo un software questa bet 22 si trovano cioè trovo che facciano errori facciano più errori in posizioni molto chiuse non riescono a capire bene la posizione ok questa è la variante di cambio della dell'est indiana che abbastanza pattagliola come come variante come fama diciamo però in realtà contiene contiene dei problemi ok qual era il punto il punto è che qua se non avesse al posto di arrocco se avesse giocato cavallo per e5 che sembra un pedone gratis il nero avrebbe recuperato subito il pedone con cavallo per e4 e dopo cavallo per e4 alfiere recupera il cavallo quindi non sarebbe stato male per me sicuramente cambiare qualche pezzo ora bisogna vedere alfiere g4 la mossa che mi viene in mente per prima però non credo sia particolarmente buona o sì non riesco non riesco a calcolare bene alfiere g4 no non deve essere un granché penso che la migliore sia il cavallo di 7 che la giochiamo cavallo di 7 mi aspetto alfiere 3 o alfiere g5 e ora compriamo questa casa di 5 forte per per il suo cavallo una mossa che prima o poi andava fatta c6 ok qua delle delle possibilità devo riuscire a manovrare i cavalli per arrivare in questa casa qui che è la casa che lei ha lasciato debole dopo le spinte 4 c4 quindi le manovre tipiche sarebbero donna via donna o c7 o e7 la torre via cavallo f8 cavallo e6 per arrivare in in d4 questo cavallo ha molti più problemi che anche geometricamente ci mette una vita per arrivare qua però può avere può fare quest'altra strada verso quest'altra casella che f4 che comunque molto evitante tra l'altro anche da f4 può tornare in e6 e arrivare in d4 e quindi penso che cavallo h5 tutto sommato sia una mossa forte anche perché dopo cavallo f4 l'alfiere non mangia volentieri in f4 altrimenti dopo è per f4 l'alfiere si libera e diventa veramente veramente forte e inoltre anche la casa e5 diventa diventa invitante per il cavallo infatti lui non cambia lui lei madonna c'è sempre questo problema ok torre di 1 inchioda inchioda il cavallo quindi faccio faccio bene a togliere la donna la mettiamo in e7 ok g3 non me l'aspettavo sembra parecchio rischiosa per per lei perché perché mi lascia la possibilità di mangiare in h3 con scacco dopo re g2 è vero che il mio cavallo una casa però anche vero che basta togliere questo per per difenderlo con l'alfiere ok temo temo che comunque sia una cosa che che abbia preventivato in qualche modo perché comunque il cavallo rimane parecchia incastrata in h3 per esempio cavallo h3 facciamo re g2 cavallo c5 per difenderlo e ok può attaccarmelo ancora con con torre h1 a quel punto sarei abbastanza in difficoltà infatti infatti ok cavallo h3 non mi fido troppo per queste per questi ragionamenti comunque le altre le altre alternative che sono cavallo per e2 e cavallo e6 sembrano assolutamente buone per me anche cambiare questo cavallo per questo alfiere adesso che ha giocato g3 e si è indebolito un po le case chiare intorno al re di certo non è male posso giocare cavallo c5 idea tornare in e6 come come avevo già commentato prima anche ok anche f5 adesso si si propone come possibilità forse attualmente un po un po ottimista f5 adesso però un giorno può diventare una minaccia concreta si decidono prima di giocare cavallo e6 e poi successivamente preparare questa spinta con f5 c5 è una mossa tematica l'idea è appunto fissare un po la struttura del nero preparare magari questo questo piano che abbiamo già visto tante volte con cavallo d2 cavallo c4 e conquistare la casa d6 col cavallo che sarebbe devastante assolutamente un cavallo in d6 è un problema troppo grande penso che sia arrivato al momento ok però se me lo mangio non è anche considerato il fatto di mangiarlo posso mangiarlo posso decisamente mangiarlo ok comunque si non capisco non capisco 2007 sono stati un po un po larghi di punteggio vabbè io me lo mangio senti vediamo vediamo cosa cosa deve fare ok g4 g4 non può essere una mossa buona perché adesso torno torno felice che ne sei forte del mio pedone guadagnato e questa casa diventa diventa un problema per lui perché se riesco a raggiungere la casa in f4 con un cavallo ancora meglio adesso se se lui non può rimangiare perché il cavallo in f4 è un attaccante fortissimo però non vedo come posso come posso fare per non farmelo rimangiare dall'alfiere quindi per ora per ora mi limito a giocare re h8 con l'idea di giocare f5 aprire qualche linea sul suo re e attaccare direttamente il re siccome credo di essere in vantaggio tra l'altro alfiere c5 non c'è perché il cavallo tiene questa casa quindi re h8 penso penso che possa andare torre 1 ok continua a fare mosse molto lente e ok forse è il momento di aggredire con f5 a questo punto se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco allora vienici a trovare all'interno dell'accademia di mattoscacco il problema per me sarebbe se se cambiasse tutto ok con f5 mangia mangio mangia mangio e a quel punto forse avrebbe un discreto compenso dato dalla casa e4 per il cavallo quindi mi sto un attimo ci sto un attimo ripensando potrei 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 giocare f5 ok sto pensando a cose tipo torre g8 per anticipare la presa col pedone g però mi sembra un po' un po' lintina come roba altrimenti cavallo f4 ci sto mettendo una vita ok dai fidiamoci giochiamo f5 sicuramente non è proprio tutto oro ciò che luccica però sicuramente è un'idea abbastanza coerente per come ho giocato finora anche posso iniziare a giocare contro il pedone in h3 anche con questo alfiere ok donna g4 è un'altra mossa che sembra molto strana mi dà delle possibilità interessanti devo stare attento un po' perché queste torri sono veramente ben piazzate per lui e anche torre di 8 è sempre una minaccia stare un po' attenti qua la torre adesso è in presa potrei giocare torre f6 con l'idea di giocare torre g6 devo soltanto controllare che cavallo per e5 non sia una possibilità ok cosa che non credo perché su cavallo per e5 io avrei anche cavallo f4 scacco attaccando la donna con l'alfiere quindi è tutto sotto controllo ok torre f6 donna donna lì ok questo alfiere non riesco a farlo giocare perché ancora non sono riuscito a a trovare una casa per questo cavallo in f4 è invitante però dopo la presa non posso mangiare di di pedone perché la mia donna è sotto quindi vabbè posso giocare per alfiere d7 torre g8 che sembra comunque molto molto forte anche con cose così ah mi sono dimenticato di di cavallo per e5 che stupido questo può essere un gran problema perché ho questo sotto adesso non ho il tempo di giocare torre g8 ok ok provo a giocare alfiere 8 questo cavallo è almeno limitato da da questo alfiere ok qua torre g6 non funziona purtroppo per via di di cavallo per g6 scacco doppio quindi perderei una torre una donna quindi è meglio evitare lo stesso vale per l'altro scacco che scoprirebbe l'azione della della donna sulla sua donna alfiere per e difende la donna oppure anche direttamente donna donna per so che fare che fare ok ora non sono più convinto di stare bene è riuscito a riuscito ad attivarsi grazie a questa cavallo per e5 provo a cambiare a cambiare questa torre che mi sta dando troppo fastidio cavallo e4 ok sta decisamente sta iniziando ad attivarsi troppo si ah pensavo di avere torre f7 al minimo non c'era torre f7 ah diventa grave grave davvero questa posizione inizio a star male 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 vabbè intanto giochiamo torre per d1 torre per f6 non c'è perché c'è alfiere per f6 e e vince facile non è un vero posto dove mettere questa torre peccato peccato ok ok in realtà avrei ancora questa donna b4 che inchioda che inchioda in questo modo però sembra veramente un po' al limite sicuramente sicuramente c'è qualcosa per per lui di fastidioso ok vabbè mi fido gioco da una b4 appunto sicuramente può avere la mossa vincente qua infatti torre d4 torre d4 idea su cavallo per d4 lui mi mangia qui minacciando anche matto in h7 ricordiamo è così grave probabilmente sì però 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 io avevo in mente qualcosa che mi sono già dimenticato ah giusto avevo in mente torre f4 che potevo fare o anche cavallo per cavallo f4 cavallo f4 scacco mangia donna per f4 no donna per f4 donna per madonna non ci sto capendo niente dai proviamo questa che tanto your check doesn't concern me infatti rh2 è proprio quello che mi era scappato però aspetta da questo punto donna e7 la posizione sta diventando un casino me ne rendo conto donna e7 alfiere per f4 posso giocare torre per f4 sfruttando l'infilata che si prende ok se sono riuscito a scampare da questa posizione in questo modo ah ok mi era scappato il fatto che se torre per f4 perdo la donna perfetto fantastico meraviglioso e niente ho perso un pezzo per niente quindi penso che ci sia ben poco da fare forse l'unica chance che ho è giocare torre e6 e vediamo come a torre d8 ok torre d8 è abbastanza per vincere è sufficiente ok facciamo vedere alfiere per e5 alfiere per e5 scacco torre e5 adesso fa o cavallo d6 o cavallo f6 questo alfiere è perso e il finale è assolutamente perso ok vediamo giusto testiamo un attimo la sua tecnica di finale la g6 su f7 sarebbe seguita cavallo d6 ok d5 non credo che possa mai perdere questo finale si non ha non ha alcun senso giocare questo finale quindi mi arrendo mi arrendo abbandona vediamo se commenta in qualche modo maledetta mistakes vediamo è probabilmente quando gli ha lasciato quel pedone quel pedone in e5 ok vediamo ancora una volta precisione precisione abbastanza alta e infatti vedete che era in vantaggio qua un vantaggio anche abbastanza huge porco cane sto rosicando un po' ok cavallo c3 qua questo pedone sicuramente non avrebbe fatto bene a darmelo non ha fatto bene a darmelo come si fa qua infatti f5 buona ancora qua grande vantaggio e qua alfiere d7 esatto cavallo per e5 cavallo per e5 la posizione è già valutata quasi pari e dopo torre d8 crolla completamente però 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 ha giocato cavallo dopo cavallo e4 dice che è pari torre per d1 no ma qua si sta sbagliando sicuramente ah dice che c'è una mossa qui ok dopo cavallo f4 è finita quindi non so cosa cosa intendesse di solito non riesco mai a trovarle queste mosse dopo la partita magari torre f4 però mi sembra veramente al limite donna per f4 per scacco qua eh se mangia di alfiere mangio qui se mangia la mia donna io mangio la sua donna magari era questa non lo so sto di fatto che dopo la nostra brillante torre d8 la posizione è finita cioè dopo cavallo f4 la posizione è finita il bianco sta vincendo peccato ah donna b4 è geniale ok qualcuno mi ha chiesto se mi era mai capitato abbastanza raro però è masso genius donna b4 che inchioda il cavallo che minacciava la torre in f6 niente spero che vi sia piaciuta questa partita ok bet ancora più forte o magari faremo un rematch tra tra qualche settimana ciao ragazzi e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao